Il momento di Luca Pierolivo al suo fianco, ancora una Clio Super 1600, il primo Elba mi sono segnato, 2010, mamma mia, 2009, addirittura ancora un anno di più, mamma mia. Ma oggi stiamo realizzando un sogno, perché questa era la gara del sogno col Super 1600, spero che vada tutto bene, grazie a tutti gli sponsor e gli amici che ci hanno dato una mano, poi grazie anche a Luca che è la prima gara che facciamo insieme, quindi è nuovo tutto quest'anno. Vediamo come riuscite a cavarvela di fronte anche a quegli altri che partono da davanti, mica male, eh? Ci sono due lupi, eh? Andiamo, vediamo, non mi fare l'agnellino, vai! Andiamo, vediamo, 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 vediamo. Andiamo, vediamo, vediamo. Grazie. Grazie. Seconda posizione di classe, è così vero? Sì, secondo classificato in classe appunto, e terza scuderia che rappresenti, terza scuderia classificata, la Pro Racing, le foto le facciamo di là, dai così almeno, eccolo qua, e la scuderia che rappresenti, guarda quante cose che, quello sei la tua, oh portala in scuderia, si si c'è il baggi piglia e la diamo, la diamo subito. Io voglio ringraziare prima di tutto, Luca, guarda, mi vibra la voce perché è una sensazione bellissima, gara perfetta, i ragazzi dell'assistenza sono il numero uno, la macchina del sogno ci ha fatto fare veramente un bel sogno. Grazie agli sponsor, a Luca che è stato bravissimo e grazie a tutti gli amici che erano sulle prove, poi se vuole dire qualcosa a lui non so. Sai che ti trema un po' la voce davvero, c'è questa emozione, pianurivo, ti trema pure a te la voce? Abbastanza, abbastanza, no, era il sogno di un bambino, di montare su una vera macchina da reddi e è stato usato da tutti e due. Poi anche con Coppa, dai, va bene così, va bene così, complimenti, ciao, che c'è, che c'è, Ivano, vieni va, che gli fai? Ah, gli dai, ah, vabbè, una foto, ok, vuoi scendere giù intanto? Ok, ciao, ciao lo ciao, è tutta una storia che, vabbè, lo so. Vabbè, vabbè, vabbè.